un cordiale saluto da federico grasso e ben ritrovati con il meteo di arpal quest'oggi sulla liguria cielo soleggiato o parzialmente nuvoloso per velatura tratti consistenti in diradamento la sera potremo avere dei locali densamenti sui versanti padani al pomeriggio avremo ancora sviluppo di nubi cumuli formi sui rilievi con una bassa probabilità di isolati piovaschi venti deboli e moderati da nord ruoteranno temporaneamente da est sud est e sull'imperiese mare poco mosso localmente mosso a ponente temperature stazionarie con valori massimi compresi tra 24 e 26 gradi lungo la costa 20 e 24 nell'entroterra domani giovedì 13 ottobre il cielo sarà prevalentemente sereno al mattino a parte qualche locale nube basso foschia sui versanti padani e delle lievi velature nel corso della giornata invece avremo nubi medio alte in arrivo da ponente a tratti estese e consistenti si verificheranno locali addensamenti pomeridiani sui rilievi i venti saranno deboli o moderati da nord nord est al mattino in rotazione da sud mare poco mosso localmente quasi calmo a levante temperature stazionarie con minime costiere sui 16 17 gradi nell'entroterra tra 8 e 11 massime dappertutto tra 22 e 26 gradi venerdì 14 ottobre il transito dei modesti disturbi in quota favorisce passaggi di nubi medio alte nelle prime ore e di nuova nel pomeriggio si potranno verificare addensamenti di nuvole basse sul centro ponente in mattinata e più diffusi dalla sera per un flusso meridionale i venti saranno deboli o localmente moderati in rotazione ciclonica il mare poco mosso localmente mosso a levante nel pomeriggio le temperature minime resteranno stazionarie con valori costieri tra 15 e 17 gradi nell'entroterra 9 10 massime ancora tra 22 e 24 gradi ricordandovi con i dettagli sul meteo liguria consultabile sul sito www.arpal.liguria.it sulla pagina facebook e sulle altre social dell'agenzia io vi auguro una buona giornata a risentirci